Maurizio presentiamo la terza edizione del Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico quest'anno ci saranno tante novità Sì buongiorno e anche quest'anno la terza edizione speriamo di farne tante mi pare che i presupposti ci siano quest'anno dal 22 giugno la partenza quindi da giovedì prossimo fino al 25 avremo la partecipazione di molte più palestre e atleti provenienti da tutta Italia si parla da Torino, Parma, Milano, Osimo, provincia di Ancona a scendere man mano Grosseto, Bari, Latina quindi ci attestiamo intorno a un numero sicuramente intorno ai 300 voglio dire è una manifestazione che noi ci teniamo a fare che è nata tre anni fa quasi per gioco continua con il gemellaggio che noi abbiamo con la palestra del maestro Gianni Maddaloni l'amicizia mia diretta già precedente insomma al Judo con il maestro Mimmo D'Angelo nostro caro amico e quindi ci apprestiamo a fare questa ulteriore terza edizione dedicata anche quest'anno ad Adriana Serpico Ci sarà Pino Maddaloni dal 22 al 25 giugno in breve quale sarà il programma? Il programma è quello standard tipo degli anni passati quindi allenamenti di mattina a partire dalle 9.30 con i ragazzi piccoli preagonisti per poi passare agli allenamenti successivi con i ragazzi più grandi quindi con gli agonisti dove avremo modo di ammirare sia i ragazzi i bravissimi e fortissimi atleti della Star Judo Club di Scampia del maestro Gianni Maddaloni reduci peraltro dagli ultimi campionati italiani da tantissime altre gare in ambito sia italiano che europeo con vari titoli, moltissimi titoli vinti e quindi abbiamo il meglio del Judo a livello panorama nazionale e internazionale Poi ci saranno momenti anche di svago perché i ragazzi potranno tranquillamente usufruire dei nostri arenili negli intervalli fra gli allenamenti e quindi magari farsi il famoso bagnetto che non guasta mai soprattutto in questo periodo di grande caldo grazie 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 grazie